Seconda sconfitta consecutiva per la ZS Group Messina, K.O. al pala mili contro l'Orsa Barcellona per 49-63. I peloritani, pur giocando una buona gara in fase difensiva, pagano dazio e le pessime percentuali al tiro, soffocati dall'asfissiante difesa zona e dei ritmi elevati imposti dai barcellonesi. Il basket school resta in partita almeno per 25 minuti, ricucendo sempre il margine da un Orsa che ha spesso comandato il gioco. Sul 39-44, a metà del terzo parziale, la ZS Group si spegne definitivamente e i ragazzi di coach Beto Manzo piazzano un parziale di 12-0 a cavallo tra i due quarti, che di fatto chiude i conti, nonostante la buona prestazione del messinese Black, miglior realizzatore, con 16 punti. Domenica altro turno casalingo per i messinesi, che al pala mili ospiteranno il Giarre con il solo obiettivo di tornare alla vittoria, per alimentare le proprie chance play-off. Sconfitta anche per l'amatori, KO 67-57 a Gravina, ma che resta agganciata da Cireale al terz'ultimo posto in classifica, a quota 10, dopo un primo quarto dominato dai padroni di casa. I nero-arancio rientrano in partita fino al 47-44, con cui si apre l'ultima frazione, ma Gravina torna a fare la differenza e porta a casa il successo. In casa amatori, altri 19 punti per il baby Leonardo Di Dio, che resta in testa alla classifica marcatori.